E' stata intensa l'attività di monitoraggio del territorio di Valtineva e Chiavenna messa in campo dalla Polizia di Stato dal 28 febbraio al 6 marzo in occasione delle festività di Carnevale, periodo in cui l'afflusso di turisti è maggiore. La Questura di Sondrio ha effettuato dei controlli straordinari nei territori di Sondrio, Castione andevenno, Morbegno, Bormio, Madesimo, Aprica e al Tribu di Fuentes. L'attività coordinata dalla Questura di Sondrio ha visto la partecipazione di personale in forze al reparto Prevenzione e Crimine Lombardia-Milano. Nell'ambito dei servizi straordinari sono state controllate 568 persone, 29 gli esercizi pubblici che hanno ricevuto la visita degli agenti della Polizia di Stato. E' stato verificato il possesso o la validità di 283 Green Pass, 138 i veicoli fermati su strada. In tre casi è stata elevata una sanzione amministrativa nei confronti di altrettante persone senza Green Pass che si trovavano all'interno di esercizi pubblici.